Il parrucchiere delle spose è il parrucchiere su misura per te. Affidati alle sue mani esperte e farà di te la sposa più bella. Il parrucchiere delle spose è in via De Gasperi 29, nei pressi di piazza San Paolo, a Casoria. Umberto Caprile, il parrucchiere delle spose, ti aspetta. www.ilparrucchieredelespose.it